Bacchieri, piantine, carte, giocattoli, prezzo scontato Ma che c'è ragazzi? Che cos'è? Allora credo che voi ci stanno giocattoli, piantine, carte, bicchieri, libri, scarpe Ragazzi ma questo è il negozio dei bambini, la bancarella vostra, tutta vostra Da quant'è che ce l'avete? Da ieri a ieri Ma siete in affitto? Che cosa? No, 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 è nostra Ma avete già venduto qualcosa? Sì, qui c'è la roba, pure le bicchieri là Le bicchieri? Abbiamo venduto i bicchieri, i giocattoli, due piante grassi, tre dischi Abbiamo prenotato un disco, dopo viene una a prendersi Ah sì? Ah ragazzi pure l'arance, quanto lo vendete l'arance? 10 centesimi 10 centesimi, vabbè ragazzi io compro il portacandele, questo qua mi piace E la brocca? Arriviamo un attimo, vabbè sono indeciso, il portacandele o la brocca? È bello! Il portacandele è più bello Va bene, compro il portacandele, a posto Vai, 2 euro Ce l'avete da incartare, da mettere la busta? Sì, solo che non c'entra Non c'entra Non c'entra? Ma che negozianti siete che non c'avete la busta? Ah ma ecco, le vado a me, c'ho più Ah ecco, ecco la busta perfetta, giusto A posto Quanto è che? 2 euro Va bene Abbiamo fatto pure lo sconto